Caro, mi porti a mangiare la pizza questa sera? Ancora pizza? Sì, mi porti alla pizzeria da pali. E da pali sì, pizza ad alta digeribilità, doppia levitazione, stesa a mano con l'antico rasagnolo. Venite a gustare la nostra pizza, la piadina, gli hot dog e le focaccine. Pizzeria da pali, via Roma 28, Piace, in provincia di Pesarubino. Telefono 0721 89 0466. Pizzeria da pali. Pizzeria da pali. Mmm, che buona. Chiuso il mercoledì.